Ciao ragazzi, in un nuovo video, questo qui è un altro video haul, si se vedete qua un asciugamano è perché ci sono i pennelli che ho lavato ad asciugare in questo video vi volevo mostrare un piccolo video haul di due cose per beauty e di altre cose sto cominciando a riprendermi le cose per la scuola perché si, sto per ricominciare la scuola tra pochissimo, quindi come ci ho detto dal beauty che sono giuste due cose, mi servivano i dischetti di cotone e ho preso questi della Cotton Plus Quadrati e Maxi Visa 50 perché erano in offerta e ne ho presi due che sono quelli quadrati e si, verrà un video tristissimo perché forse un minuto e mezzo e le altre cose che ho preso sono delle cose di cartoleria avevo bisogno di un quadrone come questo ad anelli soltanto che non l'ho trovato e quindi non l'ho acquistato mentre ho acquistato della Pritt, il bianchetto, correttore questo qua a nastro perché è quello che preferisco perché correggo lo sbaglio e ci riscrivo subito immediatamente poi ho preso un evidenziatore questo qua a tratto video giallo perché secondo me questi della tratto video sono i migliori evidenziatori e l'ho preso giallo perché era quello che mi serviva e poi ho preso i ricambi rinforzati con banda trasparente, sono 50 fogli a righe e ne ho presi tre pacchi quindi 150 fogli perché mi ritrovo meglio a scrivere con questi a righe niente questo qui era il video minuscolo degli acquisti, ci vediamo presto grazie